Un miserabile avvocato, massone, spregiudicato, venduto al protere e prezzolato, appena saputo che noi volevamo fare il viaggio con un veliero da Marsala a Roma per fare il viaggio a ritroso di Garibaldi e per far capire che il Sud era stato assoggettato ad un Nord arrogante e prepotente, questo miserabile avvocato ha cercato di copiarci e è andato dal nostro armatore per sottrarci la barca. Ma scalzone cialtrone! Che cosa pensi? Che la gente si vende tutto per denaro come lo hanno fatto alcuni farconi che si sono venduti a te? Non è così perché l'armatore ti ha fatto scappare via. Ha detto io la barca non mai l'ho premessa al generale Pappalardo e la barca la do al generale Pappalardo. Io chiedo una cortesia agli italiani, questo cialtrone è venduto al potere e non vuole farci fare la traversata perché sa che nel momento in cui parte il veliero tutta l'Italia sarà con noi e riempiremo l'11 settembre alle ore 15 il piazza Montecitorio per far sì che questi parlamentari, questi governanti se ne vadano io. Cari italiani non permettete una cosa di questo genere, fate un'offerta miserabile anche di 2-3 euro, mandatela al nostro Iban, poi vi manderò l'Iban per impedire che questo miserabile prenda la barca e non ci faccia fare il viaggio della libertà.